Ancora due incidenti mortali sulla strada della morte lungo la Statale 106. Il primo è avvenuto nel tardo pomeriggio a Corigliano Rossano, nel tardo pomeriggio di ieri all'altezza dell'area industriale in prossimità dell'incrocio con la strada che conduce al centro commerciale. La vittima è Lorenzo Monaco, di 37 anni, rosannese, mentre tre persone, una coppia di Mirto Crosia e un minore di 14 anni sono rimaste ferite, di cui una in modo grave sono state portate all'ospedale di Rossano. Due le auto coinvolte, una BMW e una Tiguan, che si sarebbero scontrate frontalmente, ma la dinamica è ancora sbaglio. Un altro incidente mortale arriva a poche ore, che è costato la vita Francesco Sacca, un giovane di 26 anni, avvenuto lungo il tratto regino della 106, una domenica triste per la Calabria. Le due vittime sono rispettivamente la sesta e la settima sulla strada Statale 106 nel 2022. Dal primo gennaio fino ad oggi, prima di loro hanno perso la vita, Luca Laudone di 19 anni a Corigliano Rossano, Pasquale Varano di 74 anni a Sant'Andrea Apostolo il 10 gennaio, Aurelio Giorgi di 47 anni a Reace il 11 gennaio, Davide Origlia di 29 anni e Gabriele Origlia di San Sostene il 31 gennaio scorso.